Una delle più interessanti formule minori che vediamo qua sono le cosiddette formula student, sono delle macchine abbastanza ad alte prestazioni perché comunque riescono a raggiungere accelerazioni importanti, hanno un'agilità estrema, sono prodotte dalle varie università e le loro gare si caratterizzano dal fatto che oltre ad avere le prestazioni pure hanno anche delle gincane, delle accelerazioni, delle prove particolari e recentemente tra l'altro è stato introdotto anche l'obbligo per tutti i team di avere la possibilità che la macchina si muova in maniera autonoma senza pilota e questo fa parte del punteggio globale, quindi chi vince non solo fa una macchina che va veloce, fa una macchina che è efficiente ma fa anche una macchina che è in grado di muoversi da sola. Vedendo le macchine alle mie spalle vediamo che tutte hanno quattro motori, uno per ruota quindi c'è un cosiddetto controllo del torque vectoring, tutte le parti di agilità di servo sterzo vengono fatte implementando anche dei software di controllo dei motori e questo permette veramente un controllo molto più fine rispetto a quello che siamo abituati sulle macchine tradizionali.